Un tempo per creare e sprecare, l'altro per subire le conseguenze delle occasioni buttate. Inizia con una sconfitta la stagione della Cinzia, punita dai propri errori e da un Francavilla che nella ripresa ha completamente ribaltato un inizio amaro, conclusosi però con la prima vittoria esterna. Partono infatti bene i Castellani che al decimo già mordono quando Biagiotti cerca artistico su una punizione che l'ex Racing Club spara sul corpo di Gravagnone. Quattro minuti più tardi è invece il suggerimento di Rapone a mandare in gol Bertoldi fermato però solamente dalla bandierina del signor Rionut di Firenze. L'ex talento della nuova torte teste si ripete anche poco dopo quando mette al centro una traiettoria che attraversa tutto lo specchio della porta salvo non trovare deviazioni per spedire il pallone in rete. Il Francavilla è tutto e solamente nella punizione che al 26esimo Scarsella respinge a Secum mentre il Cinzia si ora ha quel vantaggio che non arriva neanche alla mezz'ora quando Nicolao allontana il cross di Scardola d'Artistico ben appostato e pronto a colpire. Nel finale il numero 10 ci prova anche su punizione dopo lo slalom di Rapone fermato a un passo dall'ingresso in area ma a impedire l'ennesimo a fondo Castellano. Ci pensa Gravagnone alzando la parabola sopra la traversa. Anche la ripresa sembrerebbe iniziare con una cinzia a trazione offensiva ma quando al terzo la rovesciata di Bertoldi finisce fuori bersaglio inizia il monologo ospite. Al settimo infatti è Scarsella a fermare il colpo di testa di Gasparini mentre due minuti più tardi il numero 8 veste i panni dell'uomo assist servendo la corsa di Alexic sul quale l'estremo difensore di Santo Lamazza è nuovamente provvidenziale. È sempre uno scatenato Gasparini a mettere i brividi a Scarsella a ridosso del quarto d'ora cercando la traversa da fuori area prolungando un assedio che perdura anche al 22esimo quando Seccum ci prova ancora da calcio piazzato dando solamente l'illusione del gol alla porzione di tribuna rosso-blu. La ricerca dell'1-0 va però avanti in perterrita e se al 25esimo Marino non ha la giusta freddezza per correggere al volo il lancio del suo capitano, due minuti più tardi è ancora Alexic a mancare l'appuntamento col gol sul perfetto cross di Nicolao. Il vantaggio è però nell'aria ma bisogna aspettare le mosse di Mr. Lazic che al 33esimo gioca la carta d'Angelo un asso che 60 secondi dopo l'ingresso cala sul prato di Genzano quando Paloni se lo perde in area e per il classe 98 è fin troppo facile mettere dentro il suggerimento perfetto di Ancora. L'1-0 scuote una Cinzia che nel finale prova a riprendersi pari ma se al 39esimo Tagliabue spara tra le braccia di Gravagnone un minuto più tardi è Rapone a non centrare lo specchio sul tocco all'indietro di Bertoldi. Con la forza dell'orgoglio i genzanesi continuano a spingere e al 45esimo protestano per il contatto tra Tagliabue e Nocerino sul quale il direttore di gara decide di sorvolare. L'ultima chance per agganciare l'1-1 capita allora sulla testa di Scardola all'ultimo minuto di un interminabile recupero ma al numero 5 non riesce il colpaccio sul suggerimento profondo di Artistico finisce così con una vittoria che premia il Francavilla e frena la Cinzia un avvio senza punti ma che può confortare per la prestazione del primo tempo sulla strada della salvezza per i genzanesi andrà però trovato il cinismo.